Dall'ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi con il sindaco Marco Bucci si chiude il 2022, non è stato un anno banale sindaco, tante cose sono successe come sempre in un'amministrazione, ma per lei in particolare è stato anche un anno in cui qualcuno ha voluto mettere in discussione il suo ruolo e invece lei si è riconquistato. Beh diciamo che non è stato un anno particolare, è stato un anno specifico nel senso che tanto c'è stata l'elezione ovviamente, la riconferma e ringrazio i genovesi in anticipo per tutto questo perché ovviamente mi ha fatto molto piacere e anche una elezione a primo turno non è una cosa da sottovalutare. Poi ci sono state tantissime cose da finanziamenti che sono arrivati a lavori che sono stati iniziati, lavori che sono stati conclusi, la città che finalmente è piena di turisti, è piena di posti di lavoro, tant'è vero che non riusciamo a coprirli tutti, è la città che è in crescita, quindi da un certo punto di vista il 2022 si chiude molto positivamente. Dal punto di vista dell'indegibilità, ebbè c'è questo discorso che è stato ben affrontato dai giudici con una sentenza che io considero estremamente positiva, vedremo se andremo avanti, no, mi auguro di no, mi auguro che non ci sia ricorso, però i cittadini hanno il diritto di fare ricorso se lo ritengono opportuno. Lei pubblicamente dà l'impressione di essere sempre un uomo tutto di un pezzo che non si lascia mai toccare da niente, però mi pare di intuire che invece questa vicenda un po' l'avesse amareggiata e che il successo pieno, perché poi di fatto è così che è successo, è stata accolta completamente dalla vostra linea, l'abbiamo rincuorata, rinfrancata. Mi ha fatto certamente piacere, però in aggiunta voglio dire che comunque in ogni caso non mi sono mai fermato un secondo dal lavoro che devo fare, dalla responsabilità che deve avere un sindaco e soprattutto dalle cose che deve fare, le decisioni che deve prendere un sindaco. Se dovessi avere qualunque motivo per non poter fare più il sindaco a tempo pieno, al 100% dell'energia, darai immediatamente le dimissioni. Perché lo dice così spesso ultimamente? No, lo dico così spesso perché, intanto voglio dire, bisogna sempre dire che quando ci sono queste cose è giusto che si rimarchi il fatto che il sindaco deve essere una persona, soprattutto in una città di Genova in questo momento, che deve avere il 100% delle proprie energie, direi 120% delle proprie energie nella propria disponibilità di tempo e soprattutto deve poter essere in grado di prendere decisioni. Farà come il Papa che firma le dimissioni? Ma adesso non lo so, non mi paragono. Dico però che bisogna essere onesti con se stessi, bisogna soprattutto essere in grado di essere onesti con i cittadini che ci hanno eletto, i cittadini ci hanno eletto e meritano, hanno bisogno di un sindaco al 100%. Se ci fosse un qualunque punto di domanda sulla figura del sindaco, sulla figura del sottoscritto, questo sarebbe un problema che va affrontato, come ho detto prima. Però possiamo dire che adesso non c'è questo punto di domanda. Ora come ora non c'è, assolutamente. Questo è molto importante. Lei si è dato il compito di trasformare la città, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, non soltanto lei perché ci sono delle opere che vanno al di là delle sue competenze. Che Genova pensa di lasciare ai suoi nipoti e ai nostri nipoti? Tra quattro anni e mezzo, vorresti dire. Però alcune cose non saranno completate, altre esprimeranno gli effetti. Il cambiamento principale che è successo in questi cinque anni e mezzo è il modo di pensare dei cittadini. Ovvero sia, io sono orgoglioso di poter dire che ora tutti ci credono, o perlomeno pensano che sia possibile fare questo grosso cambiamento. E questo cambiamento soprattutto dipende da noi, dipende da noi cittadini genovesi, da quello che facciamo, da come ci comportiamo, da quello che pensiamo. Questo per me è un cambiamento incredibile. Quando sono arrivato qui dall'America, cioè nel 2016, la mia sensazione era completamente all'opposto. Vedevo una città rassegnata. Quindi questo cambiamento l'abbiamo già fatto. Adesso bisogna continuare ad alimentarlo e soprattutto a portare i cambiamenti fisici. Le infrastrutture sono il primo cambiamento fisico. La diga sarà un cambiamento enorme, il terzo valico sarà ancora più importante da questo punto di vista. Ma no, non direi ancora di più, direi che sono importanti ambedue in due campi diversi, ma ambedue fanno parte delle nostre infrastrutture. Non dimentichiamo il trasporto elettrico. E il trasporto, questi giorni si parla molto del trasporto gratuito, magari ne parleremo dopo, però queste sono tutte trasformazioni assolutamente fondamentali per dare un equilibrio alle città che è l'equilibrio delle città internazionali del futuro. Cioè noi non pensiamo alla Genova dei prossimi tre anni, noi pensiamo alla Genova dei prossimi 30 anni che vivranno i miei figli e i miei nipoti. E la macchina che è intorno ha cambiato il punto di vista? Perché ok, il popolo in generale, l'elettorato, le persone sembrano ormai credere che tutto sia possibile perché delle prove lei comunque gliele ha date. La macchina che la deve supportare l'ha capito questo suo modo di fare. Per esempio, sul tunnel supportuale, noi abbiamo il diritto di dire beh, l'abbiamo già visto proporre diverse volte e tutte le volte non è andata a buon fine. Quindi è giusto che la casistica ci dica occhio. Però molti dicono sì, ma non c'era Bucci in passato a fare questa proposta. La macchina che lei ha intorno, le persone che collaborano con lei, credono che l'effetto Bucci può cambiare la storia che in passato era diversa? La risposta è sì, ma io non darei così tanta importanza all'effetto di un singolo. Sarebbe sbagliato. Le singole persone sono importanti, ma è importante il sistema. Ovvero sia, tanto per fare gli scongiuri, c'è un proverbio americano che dice i cimiteri sono pieni di persone indispensabili. Facciamo gli scongiuri prima di tutto. Dopodiché diciamo che essere indispensabili non è la soluzione delle cose. Anzi, se si è indispensabile è un problema perché il giorno che non si è più non funziona nulla. Invece no, bisogna fare in modo che ci sia un sistema in grado di fare le cose. Oggi il sistema c'è. C'è un sistema che deve essere perfezionato, certamente non è al 100% dell'efficienza, si può fare molto di più, però c'è un sistema che vuole portare avanti la città. Un sistema fatto di persone, un sistema fatto di infrastrutture e un sistema fatto anche di regolamenti che ci consentono di andare avanti. La mia lotta contro la burocrazia sta continuando. Abbiamo fatto molti passi avanti. È più difficile di quello che pensavo nel 2017, ma questo non vuol dire che ci dobbiamo fermare. Un piccolo punto riguardo al fatto che ci hanno già provato tre o quattro volte e quindi per che ora ci dobbiamo riuscire. Se fosse così non ci sarebbe una vittoria nello sport. Quanta gente ha perso facendo una gara qualunque e poi un giorno alla fine dopo averci provato tante volte ha vinto. Cioè ci dovessimo fermare perché due o tre cose non sono successe e allora si va avanti e si vince alla fine. E questa è la speranza. Senta, il suo piglio le procura sempre tante critiche. Questa è una domanda che più o meno le faccio tutti i Natali per capire anche un po' come cambia. Perché il sindaco del fare è anche talvolta il sindaco che viene criticato di non ascoltare, che decide tutto da solo, che tratta il comune come se fosse il consiglio di amministrazione di un'azienda. Andando avanti questa critica, lei come la... Le prime due non sono vere, anche se potrebbe essere vera la percezione. La terza è abbastanza vera. Allora, cominciamo a definirle bene. Il fatto che non ascolti è totalmente sbagliato, il mio ufficio è pieno di persone che vengono a parlare, io ascolto sempre tutti. Però ascoltare non vuol dire non prendere decisioni. Dopo aver ascoltato bisogna prendere decisioni. Le decisioni talvolta non sono quelle di chi stava proponendo determinate cose. Ma questo è il nostro dovere, prendere decisioni. Sarebbe un disastro se non prendessimo le decisioni. Non voglio fare esempi del passato, ma chi non prende decisioni non può fare questa attività. E non rispetta la città, soprattutto. Quindi noi prendiamo decisioni. Il fatto che... Non mi ricordo più la seconda. Beh, insomma, il fatto di schiacciare... No, ecco, di prendere decisioni da solo. No, non è vero. Noi prendiamo sempre decisioni assieme. Certo ci vuole qualcuno che possa contrasse. Se uno ha un'idea diversa dalla mia, deve convincermi. E io mi convinco molte volte che ho torto e che cambio la decisione. Però molte volte non lo faccio, perché non ci sono abbastanza elementi per farmi cambiare decisione. Un CDA invece è vero. E in queste cose, aspetta un attimo, in queste cose bisogna essere duri, perché altrimenti non si decide più. Alla fine bisogna decidere. Il CDA non è una cosa sbagliata. Molti paragonano, vanno questa dicotomia tra il pubblico e il privato. Ma è assolutamente... Secondo me non esiste proprio. Cioè, sono umani, esseri umani, maschi e femmine, che devono prendere una decisione assieme. E allora, quando si prendono decisioni, ci sono tanti meccanismi, la sociologia è piena di libri che parlano di meccanismi decisionali, che portano poi alla stessa decisione. Ma non c'è alcuna differenza. Però farò scandalizzare qualcuno, ma non ci sono differenze. Sono umani che prendono decisioni. Non punta ogni tanto troppo in alto. Per esempio, le faccio la... Di questi giorni ho gestito un dibattito sul spostamento dei depositi chimici, sono tornato sul tema che oggi è un po' meno, diciamo, in voga, ma che c'è. E ci si riuscirà, per esempio, a mettere assieme tutte le istanze che vengono tirate fuori dai territori, le azioni giudiziarie, i pareri di enti pubblici. Sembra che talvolta veramente lei si vada a infilare in decisioni che possono essere, ovviamente, straordinarie, perché cambiano la situazione attuale. Però mi sembrano difficilissime. Io ho ragione esattamente all'opposto. Ovvero sia, cosa devo fare per la città? Questo è l'obiettivo principale. Cosa vogliamo che sia la città in futuro? Vogliamo che la città abbia depositi chimici a 5 metri delle case? No. Dobbiamo spostarli? Sì. Dobbiamo eliminarli? No. Non possiamo perdere i posti di lavoro. È fatta. Cioè, la decisione è presa. Vanno spostati. Dove vanno messi? Ci arrivano le navi, quindi devono essere in porto. Finita il discorso. Non vedo altre complicazioni. Poi potremmo parlare di dove metterli in porto, di qui, di quale modo, in quale punto, eccetera. Questo è un discorso assolutamente tecnico. Non è un discorso politico, tantomeno un discorso sociologico o altre cose di questo tipo. È ovvio che quando si fanno queste cose non deve esserci nessuna ripercussione sulla salute della città, nessuna ripercussione sugli abitanti, anche con i transiti. Quindi non devono transitare. Le merci pericolose vanno trattate, come dice la legge. La cosa è talmente semplice, da questo punto di vista, ed è per quello che viene così intrufolata, perché è troppo semplice, e quindi tutti quanti cercano di metterci il naso dentro. Nessuno avrà problemi di sicurezza dovuto al trasferimento dei depositi. Non ci sono neanche oggi, ma certamente non è una situazione ideale. Lei mi ha fatto il regalo di raccontarvi un po' il cronoprogramma di quella che dovrebbe essere l'introduzione della gratuità del trasporto pubblico locale. Certo è che però, ora senza entrare nel merito delle decisioni del presidente di AMT, che ha deciso da solo di lasciare l'incarico, però sembra che comunque, come dire, questa soluzione della gratuità, già quella attuale, dei pezzettini di gratuità, siano difficilmente compatibili con l'attuale bilancio dell'azienda del trasporto pubblico locale. Direi assolutamente il contrario. L'attuale gratuità costa poco più di 2 milioni ed è perfettamente compatibile con il bilancio 21, quando abbiamo cominciato, e con il bilancio 22, che quest'anno finirà in pareggio. Io proprio non vedo assolutamente il problema. Certo, noi invece stiamo andando per i 23 e per i 24 a una gratuità molto più aggressiva, a una pseudo gratuità, perché cominciamo a dire le cose come stanno, non ci sarà un pagamento indiretto che sarà effettuato attraverso un sistema completamente digitale che dovremo installare. Sapete che abbiamo 100 milioni da parte di autostrade che ci permetteranno di installare questo sistema di controllo digitale su mobilità su cui potremo decidere chi, come, quando si muove e che cosa costa muoversi. Però sono circa 70 milioni, no? 70 milioni sono 65, 66. perché 70 sono, ci mettiamo anche, no, veramente sono un po' di meno, ma comunque 70 sono con la città metropolitana. Infatti stiamo provando a includere anche alcuni tratti di città metropolitana, cioè della provincia di Genova, perché la città c'è a Genova, deve esserci anche da altre parti. E lo faremo estendendo tratto su tratto, non faremo da oggi al domani la completa rivoluzione, lo faremo a pezzettini, esattamente compatibilmente quindi con gli introiti di cassa, per far sì che il bilancio sia sempre in piedi. È un programma che porteremo avanti, diciamo, io penso a partire dalla fine del 2024, e sono convinto che quando non sarò più sindaco avremo il trasporto pubblico locale che non avrà più bisogno del biglietto, dell'abbonamento. Quindi entro la fine del suo mandato. Certo. Sulla differenziata, ho visto che avete cominciato a usare il pugno duro per quelli che sbagliano, diciamo. Quest'anno finiremo, se non sbaglio, attorno al 43%, e quindi questo è un buon dato, c'è un notevole aumento, e continuiamo ad andare avanti. Ricordiamoci che la differenziata la fa l'azienda, perché deve mettere le strutture, la fanno i cittadini che la devono fare fisicamente. Quindi è sempre un rapporto di ambe due, tra aziende e cittadini. E dobbiamo, come ha detto Bampi, giustamente ai mugugni, vi ricorderete tutti, dobbiamo fare in modo, dobbiamo tutti collaborare alla raccolta differenziata. Vabbè, lei da oggi, insomma, ha ridotto la parte del popolo, diciamo, una comparsa. No, non è vero. La parte del popolo deve essere rispettata. Se l'è presa col popolo, però. Deve essere rispettata. Ha detto delle cose fondamentali. Vabbè, insomma, evidentemente vi stimate su questo annonce, dubbio. Lei la politica non piace, però si è messo in politica. Non ho detto che non mi piace. Si è messo in politica, quindi questa... No, non mi sono. Allora, che cos'è la politica? Insomma, la politica è fare il bene per i cittadini. Allora io sono un politico al 100%. Però come... Se la politica, invece, è fare l'interesse di una parte, perché una parte deve avere il sopravvento sulle altre, questa è una cosa di cui io sono distante. Il dettaglio della politica è che il suo assessore rappresenta una parte politica che ha contribuito alla sua elezione, no? Quindi questo è un po' diverso rispetto a un dirigente qualunque di un'azienda. Eh, sì e no. Sì perché la proposta viene fatta in questo modo, no, perché la scelta viene fatta sull'operatività e sulle capacità dell'assessore. Mi sembra di aver dimostrato in questi anni che nel momento in cui ci fosse qualcuno che si ritiene non capace, non adatto a fare quel lavoro, in quel particolare momento, allora si prendono certe decisioni. Perché si può essere in gamba, si può essere anche bravissimi a fare tante cose, ma se in quel momento c'è bisogno di un'altra cosa, e abbiamo bisogno di persone che sappiano fare quell'altra cosa. E vi siete capiti che i politici in questi anni, come sono i rapporti? Sì, sì. Sono migliorati, sono... Ma sono sempre ottimi, non ho assolutamente... Poi, momento, cosa vuol dire con i politici? Cioè con i rappresentanti dei partiti che supportano la nostra giunta? Sì. E quindi insomma il rapporto è buono. Sono ottimi. Senta, una domanda, diciamo, fuori tema da sindaco, ma è una questione che può preoccupare, visto che, insomma, la Sampdoria in questi giorni non è messa benissimo. E questo può diventare anche un problema di tipo sociale, se la tifoseria dovesse cominciare a scendere in piazza, a creare, diciamo, è già successo nei giorni scorsi. Lei è preoccupato e pensa che da sindaco, è vero che Genova è strana perché ha due squadre, quindi bisogna essere giustamente qui distanti, ma non sarebbe il caso di cominciare, insomma, a chiedere conto di quello che sta succedendo? Il discorso è leggermente diverso. L'amministrazione favorisce lo sport, lo vediamo in tante cose, tra l'altro parleremo di Ocean Race, spero, no? L'evento del prossimo giugno. Supporta lo sport con fondi, supporta anche il calcio, ovviamente, con tante attività, soprattutto con i Ferraris, e supporta anche tutte le squadre che giocano a Ferraris. E bisogna essere in grado di poter stare neutrali di fronte a queste cose. Penso che noi ci siamo riusciti e dobbiamo continuare a farlo in questo modo. Il che non vuol dire che se c'è una situazione di crisi non si bisogna aiutare. La parabola del figlio prodigo, per quelli che la conoscono, è evidente, no? Adesso non voglio paragonare una squadra al figlio prodigo, don't get me wrong, come si dice in America, però voglio solo dire che in caso di necessità noi siamo sempre pronti ad aiutare. Aiutare, lo abbiamo fatto tante volte in passato e continueremo ad aiutare quando ovviamente il nostro aiuto è richiesto e ben voluto. Talvolta l'aiuto dell'amministrazione non serve proprio, perché se c'è una trattativa privata in corso è ovvio che l'amministrazione non deve entrarci. Ci sono anche dei requisiti di legge che noi dobbiamo rispettare da questo punto di vista. Però tutto il resto, tutto quello che possiamo fare, siamo ben contenti di farlo. A Ocean Race che cos'è? Sport o una grande occasione per la città? Lei ovviamente è un appassionato e quindi... Sì, come si dice, sono un biased, no? C'è un conflitto di interesse. No, diciamo che ci sono tre cose sull'Ocean Race. La prima ovviamente è un grandissimo evento sportivo, l'Everest della Vela, per gli appassionati di Vela è come i campionati mondiali di calcio, ecco, una cosa di questo tipo. C'è un discorso di visibilità della città, ovviamente. Vogliamo che la città sia visibile, visibile nel mondo, visibile su un miliardo e duecentomila contatti, che è una cosa enorme, di questo non siamo super contenti. Ma è anche un discorso di ecosostenibilità. Il messaggio che viene dall'Ocean Race è un messaggio di protezione degli oceani. A Genova faremo il decalogo di protezione degli oceani che in tre mesi, cioè a settembre, sarà portato all'ONU. E questa è una cosa assolutamente grande e di cui siamo super orgogliosi. Perché si è tenuto la delega alla cultura? Mi sono tenuto la delega alla cultura perché avevo difficoltà a trovare a quell'epoca una persona in grado di fare la sessore della cultura. Direi che siamo abbastanza vicini. A Genova è piena di gente intelligente, capace, che conosce... È piena di gente, capace, che deve essere anche in grado di poter venire a fare la sessore da noi e soprattutto di volerlo fare. Ci sono tante persone che non vogliono farlo, quindi c'è anche questo discorso importante. Ultimamente è stato generoso nei miei confronti. Quando arriva questa sessore? Se non le chiedo il nome, tanto non me lo dice, ma almeno la data... No, la data non la so ancora, ma parliamo veramente di mesi, qualche mese. Dentro la primavera, insomma, avremo... Beh, può darsi. Ci sono delle buone probabilità. Come dire, Genova ha chiara la strada per diventare sempre di più città d'arte. Lei è un genovese al quadrato, appassionato di Genova, ha voluto la bandiera di San Giorgio sulla scrivania e l'ha ottenuta, ma Genova non riesce ad essere la città d'arte che meriterebbe di essere. Quindi qui non è colpa sua... No, no, c'è da lavorare, sono prima io a dirlo. C'è da lavorare con un adeguato marketing territoriale, perché Genova è una città d'arte, però deve entrare nella mente del mondo tra le città d'arti. Oggi l'Italia è Roma, Firenze, forse un po' Venezia, la Toscana, eccetera, ma in Genova non c'è. Quando Genova ha molte cose, tra la volta molto di più di tante altre città. Quindi dobbiamo entrare... Ci stiamo entrando, perché c'è notevole interesse. Poi l'anno 22, tra la mostra di Roma, alle scuderie del Quirinale, del superbarocco, tra Rubens e tutto quello che è stato fatto nell'anno ha dato veramente una grande scossa. Oggi mi hanno fatto vedere tutti gli articoli che sono stati fatti su Rubens. È una cosa che non era mai successa. Il Ducale fa il suo lavoro. Abbiamo creato un tavolo dove tutti quanti partecipano, tutti quanti sono allineati. Abbiamo dei programmi per i prossimi tre anni che sono veramente di primo ordine. Io sono fiducioso che si possa veramente entrare tra le città d'arte nella mente delle persone. Perché in realtà ci siamo già. Basta vedere questo ufficio. Però dobbiamo entrare nella mente delle persone, anche di quelle che vengono dalla California, di quelle che vengono dal Brasile, o Argentina, o quelle che vengono dalle Filippine. Ecco, devono pensare che Genova è come, se non meglio, di Firenze. Non chiederti cosa il tuo sindaco può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per la città. Cosa si sente di dire per chiudere ai genovesi che la stanno guardando? Io dico ai genovesi che ci saranno tre o quattro anni adesso di tantissimi cantieri in città. Tanti disagi, ne sono convinto, purtroppo, però so che questi disagi porteranno a una grande città internazionale di cui saremo tutti contenti. E lo faremo soprattutto per noi, per i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi, cari genovesi, io vi ringrazio per la fiducia che mi avete dato, vi ringrazio per tutto quello che avete fatto vicino a noi in questi anni. Abbiamo ancora quattro anni e mezzo per correre assieme e mettere le basi per quella che sarà la città del futuro. Grande città internazionale dove è bello vivere, abitare, trascorre il tempo libero e lavorare. Buona festa, sindaco, grazie. Grazie a voi e buona festa a tutti i genovesi. Grazie a voi Grazie.